Purtroppo è stata una bruttissima sorpresa, abbiamo trovato forzato gli uffici comunali, sono entrati, hanno purtroppo forzato anche la cassaforte, come vedete, quindi delle persone estremamente organizzate perché stava aperta con un flessibile nella notte di sabato. Abbiamo scoperto che noi abbiamo il sistema di videosorveglianza che ha ripreso tutto quanto, infatti ora le immagini sono in accertamento presso i carabinieri. È stato indubbiamente un amaro risveglio per Prato Vecchio Stia, dove nelle mire di alcuni malviventi è finito addirittura il palazzo comunale. Alcuni banditi infatti hanno forzato le serrature e dopo essere entrati all'interno si sono accaniti contro la cassaforte. Al di là di pochissimi soldi perché in comune non ci sono soldi, per cui chiaramente si parla veramente di qualche decina di euro, e il resto sono purtroppo dei documenti del comune, delle carte d'identità ovviamente non compilate da parte del comune. Le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza adesso sono a disposizione dei carabinieri che stanno indagando sull'episodio. Ovviamente in un comune non ci sono grosse cose da rubare, nel senso che giusto i format per i documenti e poco più, tant'è che di soldi non c'era praticamente niente, quindi forse miravano a questo.